Vincenzo Vita, cosa significa e quale impatto avranno, secondo lei, i tagli all'editoria nel già complicato scenario dell'informazione in Italia? Beh, ormai devastante, perché l'ultimo taglio, quello dell'agosto passato, fu un taglio in corso d'opera, bilanci già fatti, e quindi ha costretto le aziende, sono circa un centinaio le testate coinvolte dal fondo dell'editoria, 4.000 persone che vi lavorano, un indotto anche piuttosto vasto, e hanno costretto quei tagli lineari, come li chiamava Tremonti, a rivedere i bilanci e a costringere alcune testate, il caso di liberazione è stato il primo, o a chiudere, perché il bilancio altrimenti non avrebbe retto, oppure, ed è il caso del manifesto, qui siamo tutti vicini, come lo siamo stati a liberazione, di sostanzialmente avere l'amministrazione coatta, perché i tagli in corso d'opera rendono non più credibile la definizione di un bilancio che sembrava invece certo. Naturalmente il fondo dell'editoria, ridotto oggi a circa un decimo di quello che era qualche anno fa, di per sé non regge più, andrebbe rivisto con criteri più rigorosi, i contratti effettivi, la tiratura e il rapporto con le vendite, tutte cose che abbiamo proposto ormai da tanti anni inascoltati, perché faceva più comodo tenere un guazzabuglio che poi porta alle miserevoli conseguenze che stiamo vedendo. Tuttavia l'allarme è serio, l'appello al governo Monti è che non succeda, senza volerlo certo, ma che non succeda che ciò che non riuscì al governo precedente, pur terribilmente censorio, i bavagli, la caccia alle streghe, possa riuscire a una censura di mercato. C'era secondo lei la possibilità di evitare i tagli lineari pur venendo incontro all'esigenza di una razionalizzazione e un risparmio di importanti risorse nel settore? Ma c'erano coperture fatte ai nostri emendamenti, tra l'altro sono reduce dalla consegna degli emendamenti con il nostro ufficio legislativo al decreto sulle liberalizzazioni e anche lì abbiamo riproposto gli emendamenti sull'editoria, servono 90-100 milioni di euro per rimpinguare un fondo ormai esangue ridotto a 53, ne servirebbero perlomeno 190-200, ma il limite del galleggiamento può essere quello, per 100 milioni di euro si possono trovare coperture come abbiamo trovato molto credibili da una manovra sull'IVA ad altre forme di risparmio, ci sono pezzi interi della vita pubblica dove gli sprechi non mancano, quindi francamente è come si dice nel gergo una questione di volontà politica. Lei ha definito la crisi del manifesto come l'epifania del disastro dei media italiani, secondo lei c'è ancora la possibilità di salvare questa storica testata e qual è insomma la posizione del Partito Democratico? Mi pare che il Partito Democratico abbia con voci molto autorevole, numerose, dato un'adesione e naturalmente ci sono sottoscrizioni immediate, richieste dal manifesto, c'è questa battaglia affinché passi una redefinizione più in alto, più credibile del fondo dell'editoria. C'è un fondo presso la presenza del Consiglio che potrebbe almeno in parte essere dedicato all'editoria, al pluralismo e all'informazione, come recita la stessa norma più recente che è stata inserita nell'ultimo testo, il decreto primo, insomma il decreto Monti. Poi ci sono iniziative da prendere anche di carattere, come si dice, generale, perché ho cercato di definire l'epifania della crisi. Beh, perché il manifesto, tutte sono importanti le testate, ci mancheranno, ma il manifesto ha una storia, una ditta, fu diretto da Luigi Pintor che Enrico Berlinguerde finì in un'intervista televisiva il più grande giornalista italiano. Il manifesto è una storia anche politicamente di grande qualità. Il venir meno del manifesto sarebbe come un colpo al cuore, sarebbe come una sberla, uno schiaffo. Non può esserci un sistema dell'informazione così concentrato, così abbaricentro televisivo, e non parlo di Udemy, naturalmente parlo della vecchia televisione generalista, Rai Mediaset, e persino caducato, ridotto nelle sue voci plurali.